Mi chiamo Lisa, ho 24 anni, faccio il difensore, gioco il terzino sinistro, sono Mancina. Ho iniziato a giocare a calcio a sei anni, è una passione che mi ha trasmesso il mio fratello. Mia mamma pensava che non sarei durata molto, invece eccomi qui a giocare nella Juventus. Da piccola giocavo esterno alto e avevo questi capelli lunghi, biondi, mi chiamavano la furia cieca, come chiamavano Pavel, quindi da lì è sempre stato un po' il mio idolo. Noi calciatrici siamo molto fortunate perché abbiamo la possibilità di fare quello che ci piace, possiamo trasmettere passione e dimostriamo, penso, ogni giorno che lo sport è di tutti. Ognuno deve sentirsi libero di essere e fare quello che è. I ragazzi adesso sono molto fortunate perché hanno a disposizione tanto, vorrei trasmettere questo messaggio di credere tanto in se stessi, lavorare e non abbattersi mai. Penso che quel rettangolo verde dia la versione migliore di me, nel senso che io quando entro in campo cerco di andare sempre al 100%. La questione sulla parità sicuramente mi sta molto a cuore, siamo spesso discriminate perché le ragazze non possono giocare a calcio, cosa che invece penso che abbiamo dimostrato benissimo che è il contrario. Abbiamo fatto innamorare tantissimi tifosi, tantissime persone, anche le ragazze un po' più piccole, di non abbattersi da questi pregiudizi l'abbiamo dimostrato e sono sicura che lo continueremo a dimostrare. Quando faccio qualcosa cerco di dare il meglio di me e di non avere impianti. Il mio motto principale è sempre stato fino alla fine perché non bisogna mai smettere di credere a qualsiasi cosa tu stia facendo, cerca di farlo sempre al meglio e porta a termine quello che stai facendo. Grazie. 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 Grazie.